musica 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 ok diamoci dentro si diamoci dentro chi è questo? faccia pezzi cosa succede? ma che cazzo musica musica ok vediamo un po' chi c'è qua oh ehi dove è uscita questa? boom schiatta pezzo che merda ok si piano piano lo butto a terra con un semplice colpo che è? cosa stanno facendo? ora li faccio fuori boom dove è l'altro? ok silenzio silenzio chi è? schiatta pezzo di merda schiatta la cassa ma quando sta entrando? aaaah a terra così devi rimanere a terra per li rimane è meglio chiudere la porta fottiti aaaah bene dove vai? io ne qui haha vediamo un po' i ceni i paranci aaaah eccolo eccolo che striscia boom vai con altro colpo sii è bello godere mentre li ammazzo buono e vuoi schiatta aaaah e vuoi ok pensiamo al secondo vediamo se lo riesco a prendere l'altro ah ah non mi prendi boom a terra aspetta ma ma hai di scappare ok stendo dei passi boom ah lo sapevo che eri nei paranci verso di merda schiatta dove vai? ma da dove stai? vieni qui vieni vieni colpa alla testa ah 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 sto vingendo merda vieni vieni non ci vuole niente a vingere sei un altro colpo ok marchi indietro ragazzo tocca a me boom ah c'è sempre toni game c'è sempre toni game ma ne paraccio vede di essere questo muore vediamo se c'è un altro ah ecco questo è Nicolai muori Nicolai muori mmm perché non schiatta quello è schiatta dai vediamo 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 uuuuuh uuuuuh ahahahah due in uno ahahah dove credi di andare? vieni ahah a terra muuuuuh nooo c'è ci parlo dove è? è morto da sotto in quest'altro dov'è? xd alla quarta ok grazie a tutti grazie a tutti per la visione grazie per questi due anni di supporto che mi vite tato grazie